www.mesmerism.info 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 questo è paro paro Sì, sì 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 il mondo di luce se vuole boppo? boppo se vuole boppo? Oggi è boppo? Sì, ci possiamo andare. E te, no? A pattinare, a pattinare, fammi la faccia. No, 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 no. Ci sono vogliati? Come facciamo il telebinezzo? Il telebinezzo? Vole. E un telebinezzo? Io ne faccio la caccia, Io non faccio la caccia? Io non faccio la caccia. Io non faccio il teore? Caccia verso qui? Soni fischiti! Fischiti! Nesca fischiti! Asca dentro! Oh! è un'altra vista da qua bello è? no fa una fotografia qua qua se fanno proprio sul sfondo fanno solo adesso che a scendere qua non lo so